L'asla di Salerno ha fatto sapere di aver raggiunto in queste ore il traguardo del mezzo milione di persone vaccinate, poco più del 30% del totale in provincia. Ma in città i numeri sono ancora più incoraggianti e avvicinano il traguardo di una Salerno covid free per buona parte entro la prossima stagione estiva. Il 40% dei residenti infatti è stato immunizzato con almeno una dose. Dati resi noti da Palazzo di Città e che fanno guardare con fiducia i prossimi mesi, come sottolineato dal sindaco di Salerno Enzo Napoli che annuncia anche il trasferimento dalla Litorania al PIP Nautico dell'Usca, l'unità assistenziale dell'asla che effettua decine di tamponi al giorno in città. Abbiamo attrezzato per questo bisogno il PIP Nautico, un hub molto molto importante e ricettivo. Già i track per quanto riguarda gli aspetti vaccinali sono sul posto. Credo che oggi addirittura ci sarà anche l'Usca che lascia libera la piscina Vigor, la quale Piscina Vigor è una piscina sociale nel senso che si dispone ad accogliere ragazzi differentemente abili e quindi sono anche uno sfogo pedagogico per questi giovani che possono usufruirne. Dal Comune è arrivato anche l'impegno a migliorare la segnaletica così come richiesto da diversi cittadini. Credo che già c'è una segnaletica installata, va implementata, lo faremo sicuramente. tenderemo anche col vostro aiuto di raccontare alle persone dove è questo posto che poi è facilmente raggiungibile, tutto sommato basta di essere ben inoltrati.